Musica Ah hi people of youtube Welcome back to a new episode of Saint Row Uno, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati nella scorsa puntata che abbiamo iniziato effettivamente la guerra fra tutte le gang E direi che è il momento di iniziare a occuparci di una di loro Ci occuperemo dei Vice King, visto che se ne occupa Johnny E Johnny, grande personaggio Donne e guai Grazie Eh, giustamente Giustamente Oh no Il King, sicuramente Subito Johnny Riprendiamoci la stronza Prendi un'auto e segui il rapitore Ma perché non c'è mai un'auto quando serve Dannazione Mi serve un'auto Un'auto, per favore Eccolo, eccolo Aspetta, aspetta Fratello, dammi la macchina Mi spiace Eh, lo so che ne hai bisogno Anche io Devo togliere ste radio Sta musica Oh, di merda Aspetta Aspetta che lo raggiungo Oh, ecco fatto Teniamo la distanza Ovviamente Ma levati dalle palle Maledetto Dai, ho ancora 20 secondi Ok, ce l'abbiamo fatta Beh, penso che siamo abbastanza distanti No Certo, quest'auto fa un po' cagare Eh, però Perlomeno è guidabile Ok Rapimento Rapimento Motherfucker È incazzato È incazzatissimo Dai, dentro Dentro Ok, dammi un attimo che arrivo Non fare male alle ragazze Eh beh, certo Uh, aspetta Ho trovato un CD Fantastico 1 su 60 Va bene, grazie Ok, mi serve un punto di entrata Penso che questo vada benissimo Merda Allora, aspetta Minchia, che dolore Ok, con calma Aspetta 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 Uff La tattica funziona sempre Attira i nemici E farli fare Affanculo da soli Quello è un panino Fantastico C'è ancora un nemico qua Ma mi sa che è fuori Può essere Sì Dove devo andare? Ah, eccolo Ehi Tutto bene qui? Ok Fantastico Ma quando è uscito? Scusami che l'uscita è solo una Tanto lo so che quello lì È fuori a farmi l'imboscata E invece No Ah, è un poliziotto E allora fanculo E allora fanculo Nel senso Restatene lì Eccoci qua Il locale di Zozze Mettiamo il fucile a pompa Sono venuto per spaccare culi Aspetta Aspetta Fantastico Il fucile a pompa È stata un'ottima Minchia Che dolore incredibile Sto Sto per crepare Sto per crepare No No Dannazione Mi ha sparato qui Devo rifarla tutta Dannazione No No Lì c'era una macchina Più veloce Parcheggio Perfetto Ecco qua Ecco qua Stavolta Allora aspetta Vediamo se posso fare qualcosa Di un filo più sneaky Ecco Quanto grande quella chiave però Ecco qua Brava la macchia che l'ha investito Ma se la sostituisco Non ho abbastanza munizioni È come pensavo Le munizioni per una pistola Non valgono per tutte Maledetto Fatto crepare Polizia Non è colpa mia Non è colpa mia È colpa loro Hanno iniziato loro La prego Mi lasci stare Buon salve signorina Le ho portato la chiave Ehi là Come va? Su Forza ragazze Tutte con me Aspetta Ragazze Non fatevi ammazzare Per favore Fate attenzione Che se vi fate ammazzare È un problema Anche se muoio io È un problema È per carità Però Probabilmente Se morite voi È più un problema Perché dovrò ricominciare La missione da capo Di nuovo Merda Aspetta Ecco fatto Tutti Tutti morti Ora penso di sì Forza Tutti dentro Ma stai zitto DJ Irie Forza Tutte quante A casa Ora L'avete ucciso? Penso di sì Però Ne è arrivato un altro Anche volendo Scusami Oh Che cazzo Se provo a mirare così è impossibile prendere la mira Se provavo a mirare facendo la cosa da dietro non ci riuscivo Piuttosto la giro io Ragazze Siamo arrivati a casa Il favore di Aisha Quartiere conquistato Posseduto 4 su 36 Grazie Hai guadagnato abbastanza rispetto per fare altre missioni Ma attente Non fatevi male Cazzo Siamo a 3000 dollari Ho bisogno di Di missioni che paghino O anzi In realtà Basterebbe Che io vada all'alloggio Eccoci arrivati a Casina Entriamo E vediamo Vediamo subito Quanti soldi abbiamo nella cassaforte Dov'è la mia cassaforte? Eccola qui Abbiamo 1600 dollari Non è tanto però Grazie lo stesso Beh almeno siamo a 5000 dollari Nel deposito armi che cosa abbiamo? Ho scoperto tra l'altro Un po' una stronzata Che non ci abbiano pensato Secondo me è una cosa che appunto Si nota dal fatto che è il primo capitolo Ed era ancora un tentativo Secondo me Che se vuoi ricaricare le armi Completamente Devi o riacquistare completamente l'arma In un negozio Oppure Devi trovarla direttamente dai cadaveri L'arma e prende le munizioni Il punto è che come avete visto prima Non tutte le pistole hanno tutte le munizioni E quindi Può essere un problema avere le munizioni di alcune armi Quindi signori Vi ringrazio tutti per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti